Facciamo un bel applauso ragazzi, è qui con noi Marco Castoldi in arte Morgan! Morgan e la sua musica riempiono il centro storico di Macerata. Oltre 5.000 persone hanno partecipato in piazza Vittorio Veneto al DJ set a tema sportivo del cantautore Meneghino, senza dubbio uno degli ospiti di punta di Overtime, il festival del racconto e dell'etica sportiva. Impressionante il fiume di persone che ha affollato la città e i locali fino a tarda notte. Il cantante milanese, fondatore del gruppo rock Blue Vertigo e protagonista come giudice di X Factor, non si è risparmiato sul palco, offrendo un'ottima performance e concedendosi dopo il concerto ai fan per alcuni scatti e autografi. La seconda edizione maceratese di Overtime ha visto numerosi ospiti di rilievo, Gian Felice Facchetti, Gabriella Grison, Elvis Lucchese, il conduttore di Caterpillar Marco Ardemagni, l'atleta paraolimpica Annalisa Minetti e Riccardo Zampagna, ex calciatore di Messina e Atalanta. Poi Gian Piero Mughini, l'ex arbitro Daniele Tombolini e ancora Francesco Baccini e il vincitore Masterchef Italia Spiros Teodoridis. Grazie a tutti.